Cosa ti dice il cervello? Nuovi episodi ancora più incredibili e folli. Apriremo nuove porte nella tua mente. Ti faremo vacillare e perdere completamente l'equilibrio. Niente sarà come sembra. Finché non capirai tu come funziona, è proprio questo il bello del tuo cervello. Ti faremo andare fuori di testa come mai prima d'ora con la nuova stagione di Cosa ti dice il cervello? Ogni domenica dalle 21.55 su National Geographic Channel. Grazie a tutti.